Grazie a tutti Grazie a tutti E ti trovi bene? Sì, è bravissimo Ecco, quali sono le caratteristiche del tuo cavallo se dovessi descrivercelo? Lui è buonissimo, mi salva, spesso mi salva e non è per niente agitato Insomma, segue bene i tuoi passi? Sì, e perdona Senti, quali sono le prossime tappe che affronterai, i tuoi prossimi concorsi? Non ho ancora programmato niente, adesso finiamo i campionati e poi, poverino, lasciamo un po' riposare E un po' di vacanza anche per te che immagino sei andata anche a scuola Sì, infatti domani mattina devo andare a scuola prima della finale Va bene Greta, allora in bocca al lupo e complimenti ancora per questa tua seconda posizione Crepie, grazie mille Grazie a te